Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Abbiamo questo pomeriggio il piacere di avere Paolo Mieli che ci fa l'onore di tenere una lezione, non so come qualificata nella tipologia degli cosiddetti eventi di Biennale Democrazia, Lectio Magistralis, è abbastanza. Lectio senza magistralis. E ci parlerà di, adesso non ricordo il titolo preciso, risorgimento e antirisorgimento. Immagino che ci fornirà una lettura a chiaroscuro di quello che abbiamo alle spalle e che ci fa essere quello che siamo. E sarà certamente un contributo alla autocoscienza critica. Se c'è un pericolo delle celebrazioni, come tutte le celebrazioni anche dei 150 anni, è che siano celebrazioni celebrative. E non siano viceversa occasioni per fare riflessioni critiche su quello che siamo, su quello che avremmo potuto essere, quello che vorremmo che si fosse. Con questo ho terminato la mia introduzione, perché naturalmente non c'è nessun bisogno che io dica chi è Paolo Mieli. Forse solo per nostalgia posso ricordare che è stato direttore della stampa negli anni in cui ho incominciato a collaborare, a scrivere per la stampa medesima. Quindi per me è un piacere particolare, ma questa è una cosa mia privata che non interessa a nessuno. Aggiungo soltanto che domani alle 11, alla Sala del Senato di Palazzo Madama, Paolo Mieli presenterà, forse presenterà una collana di volumi, collana da lui diretta, sui libri che hanno fatto la storia d'Italia. Quindi invito tutti i presenti interessati a questo rapporto letteratura-storia, letteratura-italia, italianità, a intervenire anche a questo incontro che, ripeto, ore 11, Sala del Senato, Palazzo Madama. E con questo ringraziandola sentitamente, signor direttore, le do la parola. Sono io che ringrazio lei di avermi invitato e quello non per merito mio, ma quello a cui stiamo assistendo e siamo per assistere è una cosa particolare. Perché noi qui, ed è la prima volta che in un'occasione pubblica, qui a Teatro Carignano, in un posto sacro per la storia d'Italia, terremo una lezione, poi soprattutto faremo una chiacchierata in pubblico su quello che lei ha appena detto, sugli aspetti controversi del risorgimento, sugli aspetti, provando ad avvicinarci a una verità che è la verità di un processo storico che costò una particolare fatica perché fu fatto non con tutti d'accordo. E le precedenti celebrazioni dell'unità d'Italia Dovettero fare i conti, quello del 1911, i primi 50 anni, e quello del 1961, i primi 100 anni, dovettero fare i conti con quello di cui adesso possiamo per la prima volta, in un posto sacro, lo ripeto, parlare con tranquillità. Nel 1911, quando si celebrano i primi 50 anni, ricordo il 1911, siamo in piena Italia giolettiana e si sente uno stridore, si sente ancora uno stridore, non tutti sono convinti, voi sapete, ne parleremo poi più a lungo, del fatto che le due grandi correnti popolari, quella dei cattolici e quella dei socialisti, democratici, repubblicani, li metto tutti insieme, si trovarono a essere protagoniste ma anche all'opposizione del risorgimento. I gruppi dirigenti, il Papa da una parte, Mazzini dall'altra, Mazzini voi sapete, fu condannata a morte dal nostro appena nato Stato Unitario, perché ha provocato, ha iniziato delle rivolte dentro i territori del Regno di Sardegna, in Liguria, Genova, e fece, fino a quando morì, assistette al facimento dello Stato Unitario, in esilio, in cattività, in prigione, poi di nuovo in esilio, poi in Italia sotto falso nome, come se fosse un terrorista. Quindi quando noi oggi vediamo quel Pantheon, Mazzini, Vittorio Emanuele II, Cavur, Garibaldi, uno dei quattro ha vissuto, proprio gli anni del facimento degli anni Sessanta, gli anni inizio degli anni Settanta, li ha vissuti in uno stato d'animo, scrivendo delle cose che erano molto critiche nei confronti di come si stava facendo, e vedremo adesso anche questo. Bene, dicevo, nel 1911 fare quelle celebrazioni costò molto, costò molto, io mi sono preso qui degli appunti, alla festa, appunto, per i primi cinquant'anni dell'Italia, socialisti, repubblicani e cattolici non parteciparono perché non si riconoscevano l'Italia di allora. I gesuiti di civiltà cattolica definirono, le definirono le chiassate del cinquantenario, questo era il modo in cui la rivista dei gesuiti, descrissero quei festeggiamenti come una montatura massonica, e scrissero che quei giorni delle celebrazioni andavano considerate come un anno di lutto religioso, tutto quello che vi dico è tra virgolette. L'organo dei socialisti, Lavanti, fu altrettanto severo, dall'altra parte, Nord e Scud, scrisse Lavanti, fanno due nazioni e l'una, la più misera, fugge oltre gli oceani. Due nazioni fanno la città e la campagna, attorno ai ridotti dell'industria fermentano tuttora le torbide e tristi vandee. Il privilegio dell'urna fomenta le camorre, le fraudolenze, le corrutteli, le stragi. Patria unita non esiste ancora. Questo era il commento dell'organo ufficiale del Partito Socialista. A proposito di quelle celebrazioni, Giuseppe Prezzolini, uno dei più importanti intellettuali dell'epoca, parlò di una bugia nazionale. Giustino Fortunato, il fondatore del meridionalismo italiano, scrisse delle due Italie. Contro le celebrazioni del 1911 si pronunciarono anche i nazionalisti, i corradini. Lo storico Raffaele De Cesari, in uno sommario di storia politica e amministrativa d'Italia, pubblicato in quell'anno, scrisse, raccontò di come con il brigantaggio l'unità potesse disfarsi. E due anni dopo, nel 1913, verrà ripubblicato un famosissimo libro di Oriani, che in realtà era uscito già nel 1892, la lotta politica in Italia, in cui si parlava del risorgimento come qualcosa di fallito, come una rivoluzione fallita e della nascita dello Stato unitario da un ibrido di circostanze fortunate, di compromessi, di espedienti diplomatici, di amplamenti territoriali conseguiti all'ombra prima della Francia e poi della Germania. Si chiedeva già allora, lo chiese Antonio Anzillotti, una storia realistica. E questa storia realistica, cioè una storia che raccontasse la verità su come si era fatta un'Italia, non poteva arrivare neanche nel 1961, 100 anni dopo. Perché non poteva arrivare nel 1961? Perché c'era stato di mezzo il fascismo. Il fascismo aveva preso, catturato e su di sé l'eredità risorgimentale. Pretendeva non del tutto a torto, non semplicemente imbrogliando le carte, anche imbrogliando le carte, ma non semplicemente imbrogliando le carte, di rappresentare il momento in cui il risorgimento era giunto a compimento e le masse erano coinvolte in questo compimento. Poi le cose erano andate come erano andate. Il fascismo era stato travolto dalle sue ignominie, le leggi razziali innanzitutto, ma anche la guerra. Vi basti pensare che uno dei punti nodali che Mussolini andava insegnando come complimento del risorgimento era che l'Italia, se mai fosse entrata in guerra, guerra a cui diceva Mussolini l'Italia era preparatissima, questa volta per la prima volta non avrebbe obbedito alla sua nomea di essere un paese traditore, un paese che aveva sempre tradito le alleanze, che non aveva mai finito la guerra dalla parte da cui l'aveva cominciata e si diceva allora con un certo modo scherzoso, che se per caso l'avesse finita dalla parte in cui l'aveva cominciata, perché durante la guerra aveva cambiato due volte adeguandosi agli andamenti della guerra stessa. Invece capitò l'8 settembre, che fu un trauma l'8 settembre, come voi sapete, l'8 settembre 1943 quando fu fatto l'armistizio e gli scolari, gli studenti, i colti di allora indipendentemente dal fatto che l'8 settembre fu la fortuna dell'Italia, cioè il fatto che Vittorio Emanuele III e Badoglio avessero scelto di lasciare l'alleanza con i tedeschi e unirsi al fronte degli alleati, ma fu una fortuna proprio per queste parole, invasori e alleati. Voi sapete che oggi leggendo i libri di storia, facendoci raccontare come andarono le cose, noi siamo abituati a considerare invasori i tedeschi e alleati, gli americani e gli americani che erano sbarcati in Sicilia e che liberarono l'Italia. Beh, voi dovete pensare che ci fu una notte, la notte fra l'8 e il 9 settembre, in cui questi termini cambiarono semanticamente, perché in quel momento gli alleati erano i tedeschi, con cui noi avevamo stipulato proprio un trattato di alleanza, che stavano in Italia in quanto nostri alleati, erano alleati in obbedienza al patto d'acciaio ed erano i nostri alleati, come voi sapete, si chiamavano alleati, gli studenti, le persone che più partecipavano alla politica, ma gli stessi militari erano i nostri alleati e invasori erano coloro che erano sbarcati in Sicilia nel luglio del 43 e sbarcando in Sicilia avevano invaso l'eternamento, quindi quelli, gli primi erano alleati, a norma di un trattato di alleanza, gli altri negli invasori, fattualmente invasori. Bene, ci fu una notte in cui queste parole dovettero cambiare ed adesso vi sembra un gioco, uno scherzo, ma è terribile quando in una notte si deve cambiare il senso di due parole così fondamentali e soprattutto per quello che vi ho detto prima, che non è che cambiavano due parole marginali, cambiavano due parole su cui l'Italia aveva preso un impegno di compimento della propria storia risorgimentale, perché l'Italia aveva raccontato a se stessa che facendo il risorgimento e facendo l'unità si poteva essere italiani seri, affidabili nel contesto internazionale e così sarebbe stato il comportamento in un'eventuale guerra. Invece quando ci fu la guerra, indipendentemente dal giudizio che diamo, primo Mussolini accampò delle scuse e non partecipò alla guerra dal settembre del 1939 al giugno del 1940 ed entrò in guerra, cosa che apparve abbastanza vicina alle tradizioni preunitarie quando sembrava che la guerra fosse proprio a un passo dall'essere vinta dai nazisti. I francesi non ce l'hanno mai perdonato quel modo di entrare in guerra nel momento in cui la Francia era caduta sotto i colpi dell'armata nazista nel maggio del 1940, quando proprio la Francia era messa in ginocchio, noi entrammo in guerra e abbiamo dato il colpo del vile alla Francia stessa. E poi appena la guerra aveva calpovolto, quindi entrammo in guerra quando sembrava che fosse vinta, e appena si capì che poteva essere persa, immediatamente siamo tornati ad obbedire a una tradizione, a una tradizione a cui avevamo giurato di non obbedire più. Bene, voi direte ma la guerra era finita nel 1945, che c'entra nel 1961? Beh, c'entra perché come è stato scritto e analizzato, negli anni fra il 1945 e il 1950, ma poi anche durante tutti gli anni 1950, la nostra storiografia, il nostro modo di studiare la storia patria, fu omissivo sull'analisi di come erano andate le cose nel secolo precedente. Fu omissivo per questo motivo, perché era complicato fare i conti con quella prodo fascista e quella prodo è quel tradimento fascista, cioè il fascismo si era autodescritto come re del risorgimento e l'aveva portato in un buco nero, in un fosso, l'aveva portato in una traumatica delusione per i quali qualcuno, ma non riapriamo il capitolo, ha addirittura ipotizzato che si possa parlare di morte della patria, cioè di un trauma quasi definitivo. Ripeto, non è un capitolo da affrontare in questa sede. E poi per un altro paradosso, che il compito di rimettere in piedi l'Italia fu affidato nella seconda metà degli anni 40 agli eredi di quelle due forze che, come abbiamo visto, nel 1911 erano ancora antisistema, ostili al presente e al passato del modo di fare l'Italia, cioè socialisti, comunisti e repubblicani, laici da una parte e cattolici dall'altra. Anzi, il partito di maggioranza relativa fu un partito figlio dell'esperienza di un pontefice, in realtà di pontefice ne hanno passati cinque, da quel pionono che aveva scomunicato il risorgimento, un partito della democrazia cristiana che aveva un forte legame parentale con quel pontefice che aveva scomunicato al risorgimento. Capite che fra fascismo e forze antisistema, anche se erano poi convertite al risorgimento, era troppo presto, era troppo presto per affrontare la storia d'Italia e continuò a essere presto ancora per gli anni 60, gli anni 70, tutti anni in cui la storia patria, la parola stessa patria, il tricolore, erano vissuti come qualcosa di imbarazzante. Da una parte suonavano falsi, potevano suonare falsi e dall'altra parte pesava, pesava, ancorché fosse negata pubblicamente, pesava il rapporto con l'uso che se n'era fatto durante il ventennio fascista. Per cui se voi andate a rivedere i filmati degli anni 60, 70, ma ancora degli anni 80 vedete che dei tricolori, a parte nelle manifestazioni di sultanza per risultati calcistici, ma dei tricolori nelle manifestazioni politiche o di uso di parole, nazione, patria, ce n'è poco, nulla, perché pesava quell'imbarazzo. Poi negli anni 90 le cose sono cominciate a cambiare, sono cambiate anche per merito delle istituzioni, alcuni presidenti della Repubblica, diciamo da principio Scalfaro, ma soprattutto Carlazzaglio Ciampi e Giorgio Napolitano sono due presidenti che si sono fatti carico, ma in modo molto forte, mettendo su strutture, investendo molto del loro rapporto con le genti, con il popolo a riabilitare quelle parole e a riabilitare la storia e di conseguenza è nato quindi più su iniziativa politica istituzionale, non che non ci fossero storici che avessero studiato l'argomento, ma in conseguenza a questo forte incoraggiamento che veniva dal Quirinale anche gli storici si sono dati coraggio, hanno rielaborato la storia del nostro risorgimento e degli anni che precedettero il nostro risorgimento e hanno reso possibile il pomeriggio di oggi, hanno reso possibile che nei giorni sacri dei 150 anni si possa parlare liberamente, come in vero si è sempre fatto in paesi più moderni e coraggiosi dell'Italia, del risorgimento e di ciò che si mise di traverso al risorgimento. Nel fare questa troppo lunga premessa vi ho provato a spiegare perché è un tema dolente, perché questo è un tema particolarmente dolente, perché è come se fosse la prima volta che lo si affronta pubblicamente. Libri, lo ripeto, ne sono stati scritti, qualcosa è stato detto, iniziative polemiche sono state prese, ma affrontarle in modo così pacato, risolto, in sede storica, non mi risulta che sia stato fatto, o comunque non mi risulta che sia stato fatto sempre. E veniamo a di che cosa sto parlando. Tutto inizia nel 1796, il 1796, cioè 65 anni prima, non vi preoccupate, sarò rapido, oppure se mi rimane qualcosa la finirò nella conferenza di domani, perché di quei libri tengono conto, quei libri di cui parlerò oggi, di cui parlerò domani, hanno come sottotesto una vera storia di risorgimento, come l'hanno potuta scrivere gli scrittori che avevano la sensibilità adatta per capire, captare e spiegare, sia pure in maniera a volte implicita, spiegare i problemi di cui vi sto per parlare. Dunque dicevo, nel 1796 entra Napoleone, è un Napoleone non ancora Napoleone, è un generale del direttorio, molto condizionato ancora dalle idee rivoluzionarie. Il Napoleone che entra in Italia nel 1796 non è quello successivo dell'Ottocento che aggredirà altri paesi, che verrà vissuto come un dittatore o comunque un imperatore che tenta di impossessarsi di altri paesi. Ma viene visto quasi come la fase calda della rivoluzione francese, finita già da tre anni, due anni, ma lui viene visto come un portatore del verbo rivoluzionario in Italia e viene intercettato come tale dalle élite rivoluzionarie che avevano seguito la rivoluzione francese e si erano predisposti a fare qualcosa di analogo anche in Italia. Vi ho fatto questa sottolineatura perché è importante, nel senso che Napoleone che voi conoscete dai dipinti di Goia per l'impresa spagnola o dalla lettura di Guerra e Pace per l'impresa russa è un Napoleone che trova di fronte a sé delle resistenze. I libri, i dipinti di Goia o Guerra e Pace non raccontano di un'adesione entusiasta di spagnoli e russi a Napoleone, ma raccontano di come i popoli si uniscono, minoranze, maggioranze, popolo ed elite si uniscono per fronteggiarlo e per dargli del filo da torcere e la loro retorica nazionale, dico retorica in senso positivo, esalta questa resistenza a Napoleone. In tutta Europa viene esaltata la resistenza a Napoleone ad eccezione di un paese, l'Italia per l'appunto, dove invece quello che fece Napoleone nel cosiddetto triennio giacobino, anche il nome 1796-1799, è ricordato come l'origine, la fonte battesimale del nostro risorgimento. Nel senso che da noi queste elite liberali accolsero Napoleone con entusiasmo, abbracciarono le sue idee o le idee che portavano i suoi soldati, i teorici che si muovevano dietro di lui, erano di impronta bonarrotiana, bonarroti era un filosofo che si unì alla congiura degli ogvali che andò male nel stesso 1796, ma le sue idee continuarono a fare da promemoria, esistono i vademecum che avevano le truppe napoleoniche in Italia e le nostre elite lo accolsero. Il caso che forse tutti voi conoscete fu quello della Repubblica Partenopea a Napoli nel 1799, dove il fiorfiore dell'intelligenza napoletana lo abbracciò. Però c'è un però, anzi due però. Uno, che Napoleone è arrivato a unificare l'Italia, a prendere Venezia, mentre Venezia si spogliava dell'essere una Repubblica di una delle più illuminate tradizioni della sua storia, nel 1797 per una decisione di carattere militare, firmò il trattato di Campoformio con l'Austria e regalò Venezia, che si era appena spogliata della sua dignità repubblicana, la regalò all'Austria. Questo per i nostri protopatrioti, quei patrioti, fu uno shock bestiale, uno shock terribile e divise l'intelligenza, quindi stiamo alla fine del Settecento, la divise su questo modo di fare l'unità affidandosi a un altro, un generale straniero che la faceva per noi. E ci fu uno scontro della parte migliore, però ne parlerò domani in modo più diffuso perché è l'argomento, è il sottotesto centrale di un famosissimo libro, uno dei più famosi libri, il primo libro del nostro risorgimento che è le ultime lettere Jacopo Ortis di Ugo Foscolo, si divise e questo evento traumatico di Campoformio segnò, la nostra storia segnò una divisione fra, chiamiamolo così, moderati e rivoluzionari all'interno degli stessi eliti che fecero il risorgimento. Secondo punto, ancora più importante, questo tarda ancora ad essere ben investigato, è che rispetto a alcune centinaia, diciamo con generosità, alcune migliaia di intellettuali e di proto-patrioti del risorgimento, si mobilitarono centinaia di migliaia di cattolici contro l'impresa napoleonica e dandole un filo da torcere dal Trentino alla Sicilia, un filo da torcere che viene condannato come se fosse la Vandea italiana ma non è stato ancora messo nel dovuto risalto per il rapporto quantitativo quantomeno, migliaia, centinaia di migliaia, non migliaia, decine di migliaia, migliaia, centinaia di migliaia. Capite bene che cosa significa per questo, tra l'altro diciamo parte di queste centinaia di migliaia furono quel popolo disordinato che si mosse attorno al cardinale Ruffo e che riconquistò Napoli con l'aiuto degli inglesi nel 1799 facendo fallire la rivoluzione napoletana senza che ci fosse un'epopea di questo fallimento, cioè quando si presentarono queste masse sconfinate aiutate dalla principale potenza dell'epoca non ci fu storia e la reazione nella combinazione inglesi, cioè modernità di Tardo 700, Vandea italiana, cattolici fu una combinazione selvaggia perché questi protopatrioti furono uccisi e impiccati e fatti fuori in maniera senza tanti complimenti. Quindi come vedete nell'atto battesimale del nostro risorgimento ci sono già spunti di contraddizione non di poco momento e non so, insomma interrogatevi voi quanto conosciuti o quanto approfonditi o quanto diffusi, quanto di quello che vi sto dicendo si è fatto senso comune. Ma non è solo questo. Negli anni che separano il triennio napoleonico, poi Napoleone come voi sapete nel 1800 si ripresenta in Italia, rifà l'Italia, ha chiuso la campagna d'Egitto che era il motivo per cui si era staccato, riprende Napoli, la fida prima suo fratello Giuseppe e poi Gioacchino Mirà, Gioacchino Mirà diventa anche lui un protopatriota del risorgimento e si ricomincia questa storia del nostro risorgimento fatto dai francesi che è una storia strana perché è un risorgimento da stranieri, è un risorgimento che si presta a essere, diciamo che occorre studiarlo meglio, si presta a degli equivoci, nel senso che la gente che resiste a un risorgimento fatto da stranieri è gente che sta resistendo a un risorgimento fatto da stranieri, cioè degli stranieri che vengono con degli eserciti e fanno quello che fanno normalmente gli eserciti, sono molto ben intenzionati, sono animati dagli spiriti di libertà, egalità, fraternità, tutto quello che volete ma sapete quando arrivano gli eserciti sono birbaccioni, gli piace violentare le donne, fare scorerie, rubare patrimoni artistici e quindi queste forme di manifestazione di un esercito straniero generano qualche risentimento ed è lì sul risentimento vissuto, un risentimento a cui la Chiesa Cattolica aderisce in toto e che pone all'avanguardia rivoluzionaria della rivoluzione italiana e democratica, cioè l'avanguardia mazziniana, pone dei problemi. Mazzini è il primo che dice due cose, uno che l'Italia va unita fino alla vigilia, ma proprio la vigilia di settimane, poche settimane prima dell'impresa dei 1000, del 1860, nessuno, ricordatevi per esempio, nessuno in Italia pensa di fare l'unità d'Italia come è stata fatta, tutti pensano di fare l'unità d'Italia settentrionale e che poi al massimo si fanno varie architetture e che questa unità d'Italia unita nel settentrionale si metta insieme ad altri granducati, regni e stati che formano l'Italia prunetaria e si faccia una sorta di federazione, quella è la federazione pensata in quegli anni, probabilmente secondo il disegno dei cattolici presieduta dal Papa. Tra l'altro il Papa del Risorgimento, che è un Papa più nono, nemico, giurato del Risorgimento, è nemico, giurato del Risorgimento solo nella seconda più lunga parte del suo pontificato, perché quando viene fatto Papa, nel 1846, fra il 1846 e il 1848, nei primi due anni di pontificato, viene visto come un Papa, ed è un Papa liberale, aperto, molto favorevole al Risorgimento, di cui pensa di diventare il beneficiario. Poi si trova in una singolare contraddizione durante la prima guerra di indipendenza, questo Papa manda i suoi soldati a combattere dalla parte dei piemontesi e gli austriaci dicono come, caro Papa, tuoi soldati contro le nostre truppe cattoliche, ti facciamo vedere noi, noi ci mettiamo due minuti a fare una riforma e a staccarci dal cattolicismo, perché è impensabile che tu, che sei il Papa di tutta l'umanità, mandi dei soldati cattolici e quindi si trova in un conflitto, se stesso, ma è un conflitto in cui si è trovato perché era un buon Papa, perché era un Papa che deriva appunto l'idea del Risorgimento, ritira quei soldati, ne ha un contraccolpo da parte di chi invece il Risorgimento voleva continuare a farlo e da quel contraccolpo, poi c'è la Repubblica Romana, insomma da quel contraccolpo nasce addirittura un'ostilità che si trasforma in odio reciproco fra Pio IX e il Risorgimento, però erano esistiti anche quei due anni. E prima di quei due anni dicevo solo Mazzini pensava che l'Italia doveva essere una, cioè tutta l'Italia come noi la conosciamo oggi, democratica, repubblicana e fatta dal popolo italiano, solo che Mazzini mandò varie spedizioni, alcune si mossero a suo nome, nell'Italia meridionale per provocare sollevazioni, Pisacana è la più celebra, ma ce ne furono varie e in genere queste spedizioni, questa accensione di un amiccio da parte di Mazzini andavano così, che gli uomini di Mazzini arrivavano, sbarcavano su una spiaggia, il popolo li macciuffava e li scannava vivi e nessuno di loro si salvava, tutte, tanto che Mazzini fu accusato dal movimento democratico moderato, democratico è una parola che attribuisco io, loro si chiamavano solo moderati, di essere un pazzo forsennato che mandava dei ragazzi a morire perché tutte le spedizioni mazziniane sempre, che furono tante, in tutti gli anni 20, 30, 40, 50, erano tutte operazioni che andavano a finire in questo mondo, cioè tutte dei fallimenti e Mazzini a un certo punto sentendo il peso di questi fallimenti, li cominciò a teorizzare, disse ma i fallimenti vanno bene anche se il sangue di questi ragazzi che muoiono è un sangue che darà alimento, in parte aveva ragione perché gran parte della forza del risorgimento di coloro che si impegnarono e di coloro che parteciparono ai due momenti invece dove il popolo aderì al risorgimento che sono le cinque giornate di Milano e l'impresa dei mille avevano, erano alimentate da quell'ardimento provocato da Mazzini ma le cose andarono esattamente come ve le sto raccontando e fu il momento dell'impresa dei mille e fu poi il 1861 e il facimento dello Stato unitario ma lo Stato unitario ebbe ancora un suo ma. Innanzitutto già la seconda guerra di indipendenza era andata in modo stranamente assonante a quella storia di Napoleone fra 1796 e 1797 che vi ho appena raccontato. Questa volta era un nipote di Napoleone, Napoleone III il capo della Francia che in base a un trattato stipulato con Cavour grazie a delle operazioni di grande lucichio tattico di Cavour dicevo era Napoleone che Napoleone III che era andato in Italia aveva riunificato e conquistato la Lombardia e il Veneto ma di fronte a Venezia temendo altre cose, qui non c'era un'impresa d'Egitto ma c'era il rischio che la Prussia intervenisse in questa guerra e sguarnisse il fianco settentrionale dell'esercito francese e facesse a pezzi il medesimo esercito francese firmò un altro trattato, quello di Villafranca in base al quale Venezia veniva riceduta una seconda volta all'Austria. Secondo trauma Cavour si dimise in preda a uno scoppio d'ira, chiese al re a Vittorio Emanuele II di non accettare quel compromesso e restò demissionario fra l'estate del 59 e l'inizio del 1860 quando tornò alla guida del governo ma ebbe un periodo di irritazione e scontro, figuriamoci tutto il resto, se questa fu la reazione di Cavour figuratevi i democratici italiani che dissero ci risiamo, noi non riusciamo a fare, aveva ragione Mazzini o lo facciamo noi come popolo, oppure fatto da un esercito straniero ci prestiamo, esponiamo il fianco alle esigenze tattiche di un esercito straniero e quindi per la seconda volta, e tra l'altro la storia di Venezia è una storia triste perché ha come sottofondo, Venezia fu nostra nel 1866 dopo la terza guerra d'indipendenza, quindi siamo la terza guerra d'indipendenza e anche lì il neonato esercito italiano entra in questa guerra d'indipendenza e prende due sconfitte bestiali, una di terra e una navale e noi riceviamo Venezia che viene donata dall'Austria a Napoleone III che ce la gira, per sottolineare la nostra incapacità militare dobbiamo subire l'onta, i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri avi devono subire l'onta che il compimento dell'Unità d'Italia si fa in questo modo. E' importante questo? Secondo me sì perché spiega una cosa su cui mi diffonderò meglio domani parlando di letteratura ma che vi anticipo già oggi, che quando poi nei primi anni, nei primi decenni ci troviamo a fare i conti con il modo in cui si è fatta l'Unità d'Italia, circola nei romanzi, nella letteratura d'analisi qualcosa, una sensazione che le cose non sono andate bene, una sensazione che poi si riprodurrà negli anni, nei decenni e che è giunta fino ad oggi e che se voi leggete con attenzione anche i saggi, gli articoli, i giornali, qualche traccia ce n'è ancora ad oggi, dedicata all'oggi, che è lo spirito, non è questa l'Italia che avevamo sognato, non è questa l'Italia per cui ci siamo battuti, non è questa l'Italia che avremmo desiderato, quasi a dire se avessimo saputo che le cose andavano così forse avremmo fatto in modo a che tutto andasse diversamente anche a costo di ritardare il processo di formazione dello stato unitario. Voglio dire che uno spirito che voi potete ritrovare in voi stessi oggi che è di dire ma perché noi usiamo parole altisonanti per descrivere una realtà che non piace, che a volte ci fa senso, ci fa ribrezzo, perché dobbiamo usare queste parole sacre per attuarle, per attuarlo, vederle attuate in una realtà che ci dà una sensazione fra il fastidio e lo schifo. Bene, sappiate che non siete soli perché queste cose le hanno pensate e scritte, intellettuali, gente pensante, anche gente comune che si applicava, le hanno scritte negli anni 80 dell'800, 90, nei primi anni del secolo, poi sul fascismo, poi furono riscritte nella seconda metà degli anni 40 e c'è sempre un prima che fa sognare il risorgimento, la resistenza o forse nei giorni attuali la rivoluzione italiana cosiddetta dell'inizio degli anni 90, l'epoca in cui si fa giustizia, che trova poi un'applicazione inadeguata se non contraddittoria con quelli che erano i presupposti. Primo tema. E quindi questo è la delusione democratica, quella che un illustre storico della letteratura italiana molto intelligente nell'analisi della letteratura italiana, Alberto Sorrosa ha definito per quello che riguarda la seconda metà dell'Ottocento la deprecatio temporum, cioè una cosa ricorrente di deprecazione dei tempi che si vivono in omaggio ai tempi che furono e all'idea che nei tempi che furono ci si era fatto di quello che sarebbe dovuto essere i tempi immediatamente successivi. E poi avevamo lasciato da parte la Chiesa Cattolica, l'obiezione cattolica al risorgimento. Quest'obiezione, dopo il concordato del 29, quindi nell'Italia fascista e dopo l'affermazione della democrazia cristiana nelle elezioni del 18 aprile del 1948, è stata accantonata perché la Chiesa si è ritrovata protagonista prima come Chiesa, poi come Chiesa e anche con una formazione politica ad essa collegata e quindi non ha ritenuto di presentare il conto di quel risentimento che aveva covato nei primi 50 anni di Italia Unita. Ma quello esiste. I primi 50 anni di Italia Unita la Chiesa, ancorché successivamente i pontifici avevano dato l'autorizzazione ai cattolici di entrare, molto gradualmente, i cattolici entrarono per la prima volta a pieno titolo in politica nelle elezioni politiche del 1919, quelle a suffragio universale maschile. Fino ad allora furono piccoli passaggi che venivano da un mondo in cui c'era la pena della scomunica per chi accettava di andare a votare e l'elettorato anche passivo. I cattolici si presentavano sotto mentite spoglie con dei compromessi con i loro parroci e l'Italia cattolica in quella seconda metà dell'Ottocento era un'Italia iper maggioritaria. Quindi quando si dice l'Italia cattolica non parliamo di un'Italia cattolica come può essere l'attuale Italia cattolica che è già una consistente realtà del nostro paese ma come una realtà ultramaggioritaria, nel senso che i cattolici erano quasi tutto e non solo, ma i cattolici facevano una descrizione non del tutto destituaduita da fondamento per cui l'Italia come tale, come nazione non era mai esistita dalla preistoria alla storia di Roma antica, alla storia del Medioevo alla storia risorgimentale se non per ciò che si era raccolto intorno alla Chiesa e ciò che la Chiesa era riuscita a portare lungo i secoli bui e poi lungo il risarcimento e poi il rinascimento, scusate, poi gli anni della riforma e della controriforma quasi a dire siamo noi i depositari della nazione, voi non siete stati mai in azione. Questo era ciò che rimproveravano i nostri genitori risorgimentali, questo vostro modo di presentarvi in azione, voi siete nient'altro che gli esecutori di disegni massonici, neoprotestanti o occultamente protestanti che vengono una volta dall'Inghilterra o vengono dalla Germania, prima ancora non certo protestanti dalla Francia, insomma siete esecutori di disegni altrui che negate un compimento al nostro modo di prospettare un'unità nazionale e la state facendo come emissari di entità terze, massoniche o straniere. Non è, ripeto, non è per quello che ha lasciato come goccia dopo goccia nell'acqua che beviamo, non è una cosa poco interessante perché noi siamo l'unico paese che si è fatto, l'unico paese al mondo che si è fatto in un conflitto aperto, dichiarato terribile con la propria Chiesa nazionale, come se l'India fosse diventata nazione combattendo contro il buddismo, la Cina contro Confucio, non esistono precedenti di nazioni che si fanno stato in un conflitto con la Chiesa per quello che ha rappresentato la Chiesa fino all'età della secolarizzazione. Che dire di tutto questo? Quello che vi ho raccontato, sia pure per sommi capi, deve farci capire che il fatto che oggi se ne possa parlare così è perché queste cose sono risolte, quasi del tutto risolte, parzialmente risolte, ma in gran parte quando dico parzialmente risolte. E risolverlo è stato un lavoro non da poco, è stato un lavoro di elaborazione culturale, di elaborazione politica di cui le generazioni politiche di questo secondo dopoguerra devono andare fiere, le generazioni politiche culturali, nel senso che politici, persone che conoscevano questo nostro passato, i studiosi di storia, pazientemente si sono confrontate e hanno fatto sì che questa storia oggi la si possa raccontare così, in questo modo, senza che venga giù il teatro, senza, mi auguro, nella parte successiva e senza che ci siano conflitti come ci sarebbero stati sicuramente a 50 anni fa. E quindi consentitemi di dedicare questa conferenza, questa lezione a questi eroi oscuri di cui non sappiamo nome, cioè queste persone con senso e con dignità che negli ultimi 50 anni hanno fatto il lavoro di scavo, di studio, di relativizzazione, di confronto aperto, non solo, ripeto, in sede di dibattito storico ma anche come classe politica, diciamo più nella prima metà di questi ultimi 60 anni che in anni più recenti, ma questo ce ne sono state anche in anni più recenti e a cui un giorno dedicheremo piazze e strade che saranno non meno meritate di quelle degli eroi che hanno fatto il nostro risorgimento, perché queste persone ci hanno fatto riconciliare con quello che il professor Zagabelsky ha definito all'inizio con i chiaroscuri del risorgimento e finché non si racconta una storia con i suoi chiaroscuri questa non può essere considerata una vera storia. Grazie. Applausi. 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 Se c'è qualche domanda. Sì, sì. Io devo avere anche domande. Applausi. Paolo Mili è completamente a nostra disposizione perché si ferma anche per la mattina della giornata di domani, quindi abbiamo il tempo per aprire una discussione paritaria, nel senso che Paolo Mili sta in alto. Posso scendere? Faccio i complimenti perché io so, avendo una grande esperienza di dibattito, che quello che rompe il ghiaccio è un'autentica eroe a cui bisogna dedicare piazze e strade come ai padri del risorgimento perché in genere nessuno trova questi complimenti. Gardo Genova, tra i moti organizzati da Mazzini, lei ha ricordato quelli di Pisacane, dei fratelli Bandiera, non ha citato i nomi dei fratelli Bandiera, ma sono quelli che hanno fatto nel ballone di Rovito quel disastro di fine che hanno fatto. Non ha citato l'invasione della Savoia del 1834 organizzata da Mazzini contro lo stato Sabaudo. Cioè Mazzini è un grande eroe, per carità, è uno che ha scritto I doveri dell'uomo, che è un libro che io ho tenuto sul mio comodino da giovane, adesso sto per compiere 83 anni, quindi è un libro che è meraviglioso. Però bisogna anche dire che Mazzini non aveva individuato in casa Savoia quella che poi è stata il motore per l'unità d'Italia. Quindi uniquico e summa, a ciascuno il suo, va detta anche questo nel, diciamo, antirisorgimento. Vorrei dire anche altre cose, ma ascolto il suo consiglio, cioè il consiglio del professor Zagrebelsky. È assolutamente vero, Mazzini non fece solo quello, provocò anche i moti di Genova che era già diventato territorio del regno di Sardegna e per quelli fu condannato una prima volta a morte. Poi quando fece i moti che lei ricordava fu ordito contemporaneamente un complotto per uccidere Carlo Lamberto e fu a seguito di quel complotto una storia molto complicata che si sviluppò tutta la trama di Felice Orsini e dell'attentato a Napoleone III vent'anni dopo. Mazzini era convinto che le tre cose, Italia, rivoluzione e democrazia, andassero di pari passo. E quindi nei confronti del regno di Sardegna pensava quello che pensavano i suoi simili nei confronti dei Borbone e del regno delle due Sicilie. Anzi, ci sono scritti a cui al regno delle due Sicilie venivano riconosciuti più titoli di quelli che venivano riconosciuti al regno di Sardegna e alla classe dirigente e al re del regno di Sardegna. Era un conflitto, ha ragione lei, non da poco, ripeto quello che dicevo prima, conflitto per cui Mazzini visse da condannato a morte, con una duplice condanna a morte nonostante fosse stato eletto nel Parlamento. Queste elezioni in Parlamento venivano ogni volta contestate in quanto era condannato, poi una seconda volta fu riconquistata, poi gli fu detto, ah bene, infatti te la riconosciamo ma non volle lui a quel punto che gli fosse riconosciuta. Questa era la storia di Mazzini dentro il Risorgimento. E perché? Bisogna domandarsi perché Mazzini pensava queste cose. Perché era difficile, negli anni che lei cita, era difficile pensare che il regno di Sardegna potesse diventare il perno del facimento dell'unità d'Italia. Non era del tutto credibile. Mentre l'unità della Germania si fa intorno a Berlino, quella della Francia intorno a Parigi, lì era Torino. Per un puro caso, però uno di quei casi che fanno la storia, il Presidente del Consiglio degli anni, Camillo Benzo Conto di Cavour, era nato francese. Perché Parigi nel 1810 era francese. I suoi genitori erano dei collaborazionisti. Torino? Sì, Torino era francese, però i suoi genitori... Ah no, scusate Torino, Parigi era francese. Anche Parigi era francese. Io per essere sicuro del fatto mio, ho detto... Cominciamo col dire che Parigi era francese, ma anche Torino era francese. I suoi genitori... Grazie. I suoi genitori collaboravano con un regime francese e lui parlava francese, scriveva in francese. Nel suo compromesso, un genio assoluto, e una parte che per non dilungarmi troppo vi ho risparmiato, ma che avevo previsto dalla mia relazione, è che tutto quanto questa crisi del risorgimento, crisi di identità, risorgimento imputabile, a mio avviso, alla morte prematura di Cavour nel giugno 1861. Cavour, se fosse vissuto, e questa non è la storia fatta con i sei, è una storia inventata, Cavour era l'unica persona che aveva la capacità di tenere unite, affrontare i primi decenni di vita dello Stato Unitario in modo che questi problemi che si sono accumulati non si accumulassero, non si accumulassero in quella maniera. Alla scuola di Cavour si avverò la letteratura tedesca, la letteratura politica tedesca degli anni 50, Bismarck, la formazione, cioè se si è potuta fare l'unità tedesca, come voi sapete, un decennio dopo, fra il 1867 e il 1871, fu perché c'era stato Cavour. Cavour fu un faro per l'epoca su cui è il più misconosciuto, perché è il meno avventuroso dei quattro protagonisti del Risorgimento, ma fu il politico, quello che riuscì a mettere insieme le cose, perché Mazzini, e fra le cose che mise insieme fu di una tale abilità che, come lei sa, come sicuramente voi sapete, cedette alla Francia in cambio della seconda guerra di indipendenza, Savoia e Nizza, che furono un altro trauma, perché la Savoia, ma adesso sono tutte cose su cui a scuola non si riflette, ma pensate voi, quelli si chiamavano Savoia, parlavano francesi, la Savoia, cioè ciò che dava titolo alla casa regnante dei primi 70 anni di vita dello Stato Unitario, viene data alla Francia in cambio di una collaborazione militare per catturare Venezia, che poi viene col trattato di Villafranca, come vi ho detto, di nuovo riceduta all'Ausia. Noi facciamo in fretta oggi a dire, ma che meraviglia, si è fatta l'unità, che brava, ma fu una cosa che quelli che muovevano e che dovevano accendere il popolo non ci riuscivano, perché anche quella rivoluzione in Savoia fece una fine, affittavano, affittavano la parola giusta, affittavano dei generali ex rivoluzionari che in genere prendevano i soldi, raccolte con le gollette, le disperdevano in donne, avventure, cose così. Insomma, purtroppo la storia della tribù rivoluzionaria che fece l'Italia ha anche una storia di sogni forti e però sgangheratezze altrettanto forti. E il genio, il nucleo fu appunto Cavour. E Mazzini però, nonostante il giusto rilievo che lei ha fatto, i rilievi che gli avevo fatto precedentemente io, fu però quello che accese gli animi e diede quel minimo di slancio vitale. A un'impresa seppe vedere l'Italia unita, ancorché in modi, attuata nei modi discutibili di cui abbiamo detto, la seppe vedere. E quante volte, riflettendo sulla storia di altri paesi che non hanno niente a che fare con l'Italia, noi troviamo analoghe di dissenatezze nei movimenti che hanno portato poi alla liberazione, all'essere Stato, altri paesi del nostro mondo, ma anche di quello cosiddetto terzo mondo, del Sudafrica, dell'India, della Cina. Mazzini forse merita la scusante che quando uno è solo, circondato da invasati, perché poi uno si trova in esilio, pieno di agenti provocatori e ha una visione, secondo me la storia per essere giusta con lui, il fatto che fosse circondato da agenti provocatori, che l'invasato produce invasamenti, ma la storia per essere giusta con lui deve sfrondare di tutto quello che gli si è appese intorno e riuscire a cogliere la forza, il nitore di un'intuizione senza la quale questo paese non sarebbe esistito. Torino e la stessa casa regnante, cioè Savoia, non avrebbero avuto la parte più onorevole per la loro dinastia, tant'è che prima di perdonare io Mazzini, lo perdonò, e ci sono delle pagine bellissime di considerazione di Vittorio Emanuele II, cioè il re che fece l'Italia contro i cui avi e contro lui stesso Mazzini aveva cospirato, fu il primo a capire che Mazzini meritava, poi evitò di dirlo pubblicamente perché erano ancora anni tesi, però ha lasciato un omaggio a Mazzini che merita da parte nostro di essere condiviso. Grazie. Mi dica signora. Vorrei chiedere un parere su un problema molto più pratico rispetto a quello di cui avete abbiamo ascoltato. Al momento in cui l'esercito Sabaudo scende da Torino verso sud e quello dei mille scende da sud verso nord, si incontrano. Abbiamo sullo scenario geografico politico italiano la presenza di tre eserciti. Quello nostro, quello del regno di Sardegna piemontese formale, quello preparato qui all'Accademia di Torino, quindi organizzato su base gerarchica eccetera. Un esercito più romantico se vogliamo, ma anch'esso organizzato in termini gerarchici e burocratici, che è quello di Garibaldi, che non ha niente a che fare con il primo, e un terzo esercito, quello dei Borboni, che in quel momento si trova un esercito disoccupato. Vorrei chiederle, secondo lei, quanto ha inciso dal punto di vista organizzativo, e io so che nelle prime sedute del Parlamento unificato qui di fronte, nelle prime giornate si dibatte già su come organizzare l'esercito dell'Italia Unita. Quanto questo problema della presenza contemporanea di tre eserciti con tre gerarchie militari, perché Garibaldi aveva i suoi generali, il regno di Sardegna aveva i suoi generali e i Borboni avevano i loro. Quanto questo ha contribuito a confondere ulteriormente le acque e a renderle difficili. Ancorché Cavour, essendo un abile politico, ma anche un ottimo agronomo, nel giro di due mesi, essendosi preso la malaria qui a Leri, se ne andò e lasciò tutti un po' con dei problemi. Grazie, è chiarissimo, anche perché lei allude al primo grande dibattito che ci fu nelle settimane a ridosso dell'Italia Unita, che fu appunto il dibattito di come ristrutturare questo esercito e, lo dico per sottimicami capi, l'esercito del regno di Sardegna decise di concedere l'onore delle armi, quindi delle promozioni ai più brillanti ufficiali dell'esercito borbonico a scapito di una mancata introduzione nei ranghi con adeguate promozioni dell'esercito Garibaldino e questo provocò un'irritazione di Garibaldi feroce che se ne andò già quella prima volta sbattendo la porta e ci fu il primo litigio. Fece bene Cavour, questo fu l'ultimo atto politico in cui Cavour fu impegnato, fece bene Cavour a farlo? Probabilmente sì, per delle considerazioni proprio lei mi invitava a farle di ordine pratico. L'esercito Sabaudo era un esercito negato sui mari, non aveva tradizione sui mari, l'esercito borbonico invece aveva degli ufficiali assi sui mari ed era un ottimo esercito, ancorché molto corrotto e lo si vide durante la prima fase dell'impresa Garibaldina. Sicilia, ma lì era un problema della Sicilia. La Sicilia era dentro il regno delle due Sicilie, era ostile ai Borboni già da molti anni e fomentata dall'Inghilterra a essere ostile ai Borboni. Quando c'era stata la prima impresa napoleonica di cui avevo detto i Borboni si erano rifugiati in Sicilia e avevano promesso, Costituzione aveva promesso alla Sicilia di riconoscerlo a un rango di Serie A. La Sicilia viveva, Palermo viveva la competizione con Napoli che era una delle più importanti città europee, sicuramente la più popolosa e la più immaginifica città italiana. La Sicilia aveva creduto, era rimasta fedela ai Borboni, li aveva difesi, li aveva ospitati e quando i Borboni rientrarono a Napoli, tardi, perché questa cosa durò 15 anni, quindi non fu una cosa di breve momento, rientrarono dopo il congresso di Vienna, i siciliani non perché in realtà non gli sembrava abbastanza quello che i Borboni facevano per loro e covarono un'ostilità tutti, covarono un'ostilità nei confronti del regno di Sicilia per cui anche i militari dell'esercito borbonico praticamente fecero una resistenza a Garibaldi che è una resistenza molto, ancora oggi molto discussa, nel senso che molti ufficiali tradirono, passarono nel campo opposto e poi c'è un mistero, ma lasciamolo fuori, un mistero della storia d'Italia, la storia d'Italia si è fatta due volte in modo importante passando per la Sicilia, una volta nel 1860, l'impresa Garibaldina, le cose di cui stiamo parlando e una volta nel 1943 quando gli americani risalirono appunto la Sicilia. In tutte e due le volte c'è insomma questi eserciti che rifanno, che fanno l'Italia, le due volte in cui l'Italia è stata fatta ricevono tutte e due le volte l'aiuto di alcuni strani personaggi che nel caso della Sicilia sono raffigurati nella battaglia di Calatafini, in un certo momento la battaglia di Calatafini che fu l'unica battaglia rischiosa per Garibaldi, compaiono sugli spalti i picciotti, delle misteriose figure di ragazzi siciliani che capovolgono nel senso la battaglia, la battaglia di Garibaldi. Provate a immaginare a chi li mandava questi picciotti, cioè come, cosa erano i picciotti? Sì, ecco, esattamente, cioè allora probabilmente non era la mafia come era sicuramente quella del 1943, però che mandò invece quasi esplicitamente i propri uomini in soccorso alle truppe alleate. Non è un modo di rimettere in discussione la storia d'Italia, però quell'aiuto e il comportamento diciamo confuso della truppa borbonica in Sicilia non fece ben, ma quando poi invece la guerra fu vinta il re Borbone, il re Franceschiello si rifugiò a Gaeta, lì quelli diedero luogo a una resistenza spettacolare, il nostro esercito a quel punto ricongiunto, era il generale Cialdini che poi guiderà la repressione nell'Italia, ci mise settimane per venire, insomma, il sud, l'intero regno del sud di Sicilia si sciolse come burro. La città di Gaeta misteriosamente resistette facendo capire che in un rapporto solido con la monarchia quei generali erano generali quegli ufficiali che ci sapevano fare, erano gente che nonostante che la sorte di Gaeta fosse chiaramente segnata, quei generali ci sapevano fare. Quindi la decisione di Cavour di non affidare, tranne che in alcuni casi di trasformismo di gente che aveva abbandonato Garibaldi e aveva abbracciato la causa monarchica, ma diciamo di privilegiare gli ufficiali borbonici era qualcosa di sensato. Ripeto, poi per tenere unito, per tenere quel corpo e dargli senso e vita, l'infa ci voleva Cavour e quindi la morte di Cavour ha pesato anche su questo. Ma era qualcosa di sensato, ma lasciò una ruggine che è un altro argomento di cui volutamente non ho trattato oggi perché penso che sia fra quelli, quello che voi conoscete meglio, quindi dovendo tagliare, è che è il risentimento meridionale, insieme al risentimento democratico e repubblicano, il risentimento cattolico, cova contro il risorgimento il risentimento di un popolo che fu oggetto di una guerra a tratti molto dura, in alcuni casi di sterminio. Ci sono i due casi dei due villaggi, Ponte Landolfo e Casalduni, che in risposta a delle uccisioni di una decina di bersaglieri furono rasi al suolo e furono uccise 2.800 uomini, donne, bambini, tutti, insomma sono delle stragi che siamo stati abituati a vedere solo nel secolo successivo e che tuttora sono misconosciute, tant'è che quando escono dei libri possono essere anche raffazzonati, che ne parlano, cioè non fatti da storici di professione, questi libri vendono centinaia di migliaia di copie e ci sarà un motivo quando... ecco, secondo me una delle conseguenze della cosa su cui lei mi invitava a dare una risposta fu che nel fare un esercito uno deve tenere conto anche delle terre su cui questo esercito dovrà esercitare, scusatemi il bisticcio, e fare qualcosa che poi possa reggere l'urto e lo possa reggere non solo in termini militari ma in termini di persuasione, cioè un esercito che quel popolo potesse sentire come suo. Mentre invece l'esercito si presentò con due volti, uno, la leva obbligatoria, ha scritto delle cose molto belle, Gustavo Zagrebeschi, nei cenni che, nei malavoglia, nella preparazione di malavoglia di Verga, se ricordo bene, nei cenni che si fanno a qual era, a come veniva sentito dai pescatori di Trezza il tema, insomma dei siciliani, il tema della leva di essere richiamati a servire un esercito, si sentivano come, non so, come della popolazione di colore chiamata a fare da schiava, a versare sangue per un esercito coloniale, quindi ci fu qualcosa di sbagliato. E poi di presentarsi con il volto di quel generale, a cui credo siano dedicati ancora oggi piazze, strade, dappertutto, soprattutto qua a Torino, il generale Cialdini, che si comportò fra il 1861 e il 1865 come si comporta, anzi non ci si dovrebbe comportare, ma come nell'Ottocento ci si comportava nelle colonie, che quando vedeva un problema lo risolveva passando tutti per il filo delle armi, compresi i disertori, cioè coloro che volevano sottrarsi in obbedienza a esigenze delle loro famiglie, ai loro costumi, così alla leva obbligatoria. Quindi, scusi se mi sono dilungato, ma la risposta alla sua domanda è una risposta complessa, perché c'è una scelta che probabilmente non fu un errore, ma le cui conseguenze furono terribili. E perché quell'esercito, quello che nacque da quella fusione cavoliana, fu un esercito che faceva pena, scusate, va detto, era fatto di splendidi ufficiali, ma fu un esercito che le buscò in ogni occasione per anni, non sto mancando di rispetto, perché ripeto, era fatto da ottimi ufficiali, da gente preparatissima, ma era un esercito che cominciò a vivere in un rapporto fra ufficiali e truppa solo, come si sa, nelle frontiere della Prima Guerra Mondiale. E apprezzo anche lì di scontri fra ufficiali e truppa, ufficiali e ufficiali, non di poco momento. Il battesimo, il battesimo in cui quello diventò un esercito nazionale, un esercito di una nazione, avvenne solo 60 anni dopo, figuratevi voi. E fino a quel momento fu un esercito che non riusciva, in cui le rivalità erano tutte, continuò ad essere così anche durante la Prima Guerra Mondiale, se uno vedeva che una battaglia poteva essere vinta da un generale che era suo rivale, preferiva perdere la battaglia che farlo vincere, in ciò somigliando a una delle due parti in contesa oggi e non vi dirò quale, nella contesa politica di oggi, che piuttosto che far vincere quell'altro, dice meglio perdere, ci becchiamo altri cinque anni di vittoria del nemico. Grazie. Volevo solo complimentarmi con il nostro relatore per la chiarezza e soprattutto per l'obiettività. Io vorrei allargare un po' il concetto di ciò che è costato per il mezzogiorno d'Italia il processo unitario, su cui sono state fatte molte stime e qualcuno ha detto che siamo vicino a un milione di persone che sono state massacrate. Ricordo che intanto non è stata un'unità che il Sud aveva chiesto, nel senso che c'è stata un'invasione, c'è stata una guerra senza alcuna dichiarazione. Diceva anche Martone nella presentazione del film, qui che ho visto molto bello, noi credevamo, che addirittura Vittorio Emanuele non ha avuto neanche il coraggio di dire, siccome l'unità d'Italia era un processo nuovo, neanche di dire che la sua dinastia cominciava con il numero uno, Vittorio Emanuele primo re d'Italia. Però al di là di questo volevo chiedere al dottor Mieli cosa ne pensa del fenomeno del brigantaggio, perché su questo molto equivoco c'è stato negli anni, nel senso che è stato molto confuso con la delinquenza, con la criminalità comune, eccetera, eccetera. Diceva Vincenzo Padula, che è un poeta calabrese, diceva che il brigante è una cosa e il brigantaggio è un'altra cosa, nel senso che il brigantaggio era un fenomeno che potrebbe essere considerato come un moto di liberazione, come un moto di protesta. Tutto il fatto nasceva dalla questione agraria, dalla questione del latifondo, che bisognerebbe approfondire e su cui molti meridionalisti come Giustino Fortunato, come Salvemini, come molti altri... Scusi, non voglio interrompere la mano. Sì, finisco. No, come comunicazione a tutti quanti, alle sei dobbiamo lasciare il teatro. No, finisco brevemente, volevo fare solo questa domanda, nel senso che l'intervento del Piemonte nel Mezzogiorno d'Italia, anziché migliorare la questione delle terre, che era il problema vero dei meridionali, lo ha addirittura aggravato, perché ha preso il demanio della Chiesa, ha preso il demanio degli usi civici comunali e lo ha messo in vendita e lo hanno riacquistato i latifondisti. Poi c'è tutto il fenomeno della rappresentanza di chi è stato in Parlamento del Mezzogiorno, rappresentante del Mezzogiorno d'Italia, che hanno fatto addirittura un gioco contro il loro stesso popolo. Quindi su questo volevo chiedere se sul brigantaggio ci dice qualcosa di più. Il brigantaggio, tutti i movimenti popolari hanno, per il rifornimento d'armi, per alcuni personaggi che circolano dentro questi movimenti, annoverano anche dei banditi o dei personaggi di confine, tipo nella resistenza a quello che fu a Roma il gobbo del quarticciolo. E tutte le forze che si contrappongono a questi movimenti popolari li chiamano banditi. Anche la resistenza fu chiamata banditi. Se avessero vinto i fascisti e i nazisti, oggi, in quel periodo, tra il 43 e il 45, li studieremmo nei libri di scuola come storia del banditismo, gli anni del banditismo. Quindi quando voi vedete che quel periodo, 1861-65, è qualificato dai libri l'età del brigantaggio, pensate che è la stessa operazione che chiamare la resistenza all'età del banditismo. Quindi è una cosa non nobile, anche se è ovvio che c'erano dei personaggi poco raccomandabili, i tagliagole, che erano tagliagole prima e sarebbero rimasti tagliagole anche dopo. Ma la sostanza, e sa perché lo dico? Perché la vera cosa che a me fa impressione della storia dell'Italia meridionale in quel periodo non è sulla cifra dei morti che pure è considerevole. Mettiamo che non fossero un milione, mettiamo che siano stati 100.000, ma anche 10.000, ma è ugualmente un'ecatombe non giustificata, la cosa poteva essere affrontata in un altro modo. Ma non sono i morti, bensì il processo di migrazione che il Sud subì a seguito di quella guerra civile. Dieci milioni di persone hanno fatto grande l'America Latina, gli Stati Uniti, quindi quelli non erano animali come pensavano i nostri progenitori, erano persone che riuscirono a far grandi e oggi se lei va in Brasile, conosce il Ministro dell'Economia, un italiano, lui parla ancora italiano perché se lo sono tramandato, erano persone che hanno fatto grandi altri paesi. Lì c'era un deposito di sapienza, saggezza, forza, carattere e perché non riconoscerlo? E quando poi fu il momento, contribuirono a far grande anche il nord del paese, fra gli anni 50, nel secondo dopoguerra, e Torino ne sa qualcosa. Io penso che non per i morti, ripeto, non solo per i morti, ma anche per questo il mezzogiorno meriti, in sede storiografica meriti un risarcimento, cioè merita qualcosa che come i nostri progenitori, quelli che sanno di storia, sanno che nelle corrispondenze che mandavano farini a Cavour, lo definivano, dicono, ah qua sono capitato, questa è Africa, con due F scrivevano, questi sono africani, sono Zulu. C'è una scena bellissima, una pagina, una scena del film, il gatto pardo, di quando va a Shevallara a trovare il principe di Salina, arriva, traflato in questa carrozza, tutto sudato, schifato, si sottrae. Ecco, di quella diffidenza era in preparazione, in preparazione culturale, sapete che Cavour non era mai stato a sud di Firenze, insomma, era in preparazione. In più, quelli, un tema molto studiato, coloro che erano scappati dal sud dopo i moti del 1848, si erano rifugiati a Torino, avevano contribuito a descrivere, per giustificare il dolore della lontananza dell'esilio, avevano contribuito a dire che quello era uno schifo, era il regno del diavolo in terra, che quelli che erano rimasti erano tutti dei mascalzoni, è una cosa abbastanza normale. Quindi c'era una visione stereotipata del sud come qualcosa di schifoso, che è quella che è rimasta, come voi sapete, è rimasta in una parte del DNA delle popolazioni settentrionali e che, ripeto, al di là del fatto che non si deve mai giudicare schifoso nessuno, ma in particolare per loro era sbagliata. Questi hanno fatto grandi continenti, avete capito? Cioè, oggi il Brasile, fatto, o l'Argentina, fatto da italiani, da figli e dei figli di quella gente lì, sono fra le nazioni che noi studiamo più industrializzate e più avanzate del mondo e, vi ripeto quello che vi ho detto prima, anche noi qui a Torino abbiamo un debito, ma anche Milano, abbiamo un debito con il popolo che abbiamo visto, descritto nei film come Rocco e i suoi fratelli, perché non ha portato solo forza bruta, sangue, muscoli, ma ha portato intelligenza, ha portato, cioè ha dato al genio italico un contributo definitivo e lo ha dato anche nel mondo e lo dico scherzando, ironicamente, quindi passato, ma anche la mafia l'hanno fatta meglio dei giapponesi o degli irlandesi che pure si erano cimentati nella stessa impresa. Ringraziamo, abbiate pazienza, credo che dobbiamo concludere qui, ma come vi ho detto all'inizio Paolo Mieli sarà presente qui a Torino domani mattina alle 11. a Palazzo Mazzara. Venite tutti perché dirò cose nuove, non è che vi rifaggio la stessa storia. No, cose nuove, ma credo che siano molto collegate a quanto è stato detto qui, probabilmente approfondirà questo aspetto, non so se posso vaticinare, del ruolo degli intellettuali, perché nel quadro che ci è stato fatto questo pomeriggio può darsi che non abbiano contato nulla. No, 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 li ho lasciati da parte apposta per non bruciarmi tutti. Ma certamente forse lì c'è qualche cosa di importante che spiega tante cose, spiega il fatto che Torino per vari anni sia stato un luogo di ritrovo di esuli intellettuali che venivano da altre regioni d'Italia, che nelle varie guerre di indipendenza i ragazzi delle università si siano mobilitati. credo che questo mondo non sia spiegabile come operazione massonica o mossa da potenze esterne. Forse lì c'è un elemento, un fattore, diciamo, di italianità che può spiegare alcuni successi nell'ambito di una unificazione così problematica, così incompiuta, però indubbiamente l'unità d'Italia in qualche modo è stata fatta. Ecco, ma tutto questo per dire, rinviamo l'appuntamento con Paolo Mieli a domani mattina. Grazie a tutti e grazie in primo luogo a lui stai. Grazie a lei.